Ok ragazzi, finale Eurovision 2024. Abbiamo i voti finali. Giusto? Giusto, mi confermate? Non mi ricordo mica, eh? Irlanda prima la faceva cagare. Ok. Ok, ok, ok vota Portogallo. Mamma mia che ansia. Raga mi spiegate quei numeri? Io mi sono persa pure io ragazzi. Svizzera è prima, 22 punti. Non capisco quei numeri vicino, vicino azzurri cosa sono, aiutatemi. Qualcuno spieghi, vi prego. Raga la Svizzera, oh mio Dio. La Svizzera potrebbe vincere. Ok, Azerbaijan. Ok, Azerbaijan. Ma ragazzi! Cioè, io sono scioccata. Cioè, nessuno che vota l'Italia. Grazie, molto gentili. Ok, San Marino. Cioè, ma tutti che votano la Svizzera, ragazzi. Cioè, ci ho preso. Io l'ho detto che vincevano la Svizzera. O la Svizzera o la Serbia. Cioè, io credevo la Croazia, ma non credevo. Cioè. Ah, perché c'è anche il voto del pubblico, è vero. Ehi, dai! Come on! Sì, thank you so much, però dacci il nome. Ma scusate, raga, tutti votano la Svizzera. Fatemi capire. Grazie Marco per avermi seguita. Quindi, poi c'è anche il pubblico, esatto. Miau Europe! Good evening and greetings from Zagreb, Croatia. Le pozdravi, dobra venceri in Zagreb. Got quell, tak malmo. Detta varit fantastis. Cioè, praticamente Svizzera sta governando. So, may I receive your 12 points? Of course, our 12 points or 12 points go to Portugal! Ah! Ah! Ok! Ok, ok, ok! Portogallo! Mio Dio! Il pubblico difficilmente ribatta la situazione, ok? Quindi dite che potrebbe vincere la Svizzera. Questo qui è la mia classifica, eh! Serbia, numero 1, 2 Svizzera, 3 Italia, 4 Israele, 5 Grecia, 6 Ucraina, 7 Francia, 8 Portogallo, 9 Spagna, 10 Armenia. Quindi io voto, cioè io tifo per Serbia, Svizzera o Italia. Questi sono i miei favoriti. Ok! Raga, io sono contenta se vincere la Svizzera, eh! Cioè, io sono veramente contenta. Però non me l'aspettavo proprio! Quelli con zero punti, poverini! Sì, infatti, infatti, poveretti! United Kingdom è proprio brutta la canzone! Israele, 3 punti! Aspetta, vi sposto un po'. Aspetta, vi sposto un po'. Dai, Musa! Sblocca le Chantix! Ma qualcuno ha votato Italia? Ancora no! Non so da dove arrivano quei 47 punti, ragazzi! 12 punti di Tchekia. Go to... Ukraine! Ah, dai! Ok! Che carine loro! Sono troppo carine! Ok! Quindi va in top 10 nell'Ucraina! Vediamo quanto ci prendo, eh! Poi facciamo la comparazione tra il mio e quello dell'attuale. Cioè, attuale, reale. Ok! Ok! ok Luxemburg ok 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 interessante i fischi no? veramente terribili ragazzi nessuno che votava Serbia io sono indegnata ma chi è che vota? io non capisco come fa l'Italia a essere così in alto se nessuno l'ha votata siamo secondi ma come è possibile? grazie Angela per la rosellina come facciamo a essere secondi raga? non capisco secondi? oh mio dio ma come? come? Italia seconda oh mio dio a me seconda va benissimo eh non capisco che hanno detto ah Ireland ok ok all'Australia piace un po' questo mood ok Irlanda seconda porca miseria no ma che Irlanda dai non può vincerli Irlanda Mengoni quanto è arrivato non me lo ricordo più bella la Danimarca ci sono stata io ci ho vissuto per due anni in Danimarca ci ho lasciato il cuore ok ok from Denmark with love 12 points 12 points madonna c'è sta Nemo che si sta sentin male che carino amore e in Spagna mi è stupitosa aspetta che vi leggo ok ah comunque siamo 100 in live cioè tanta roba ok vediamo la Spagna ragazzi siamo terzi eh attenzione attenzione con questo ritardo grazie Enrico per avermi seguita no raga ma la Svizzera sta dominando cioè io scioccata scioccatissima ma grazie Enrico per essere entrato nel team grazie mille Luda vedi questa cosa la politica è in mezzo cioè perché la politica Lola grazie mille per avermi seguita funziona così ma io non ho capito neanche perché l'Italia ha tutti quei punti qualcuno spiegasse aiuto si va bene per il fatto di Israele però non capisco perché nessuno vota Israele raga ma vince la Svizzera a meno che il pubblico non ribalta totalmente la situazione ribaltare la situazione confermare un ribaltare no secondo me noi arriviamo dai se arriviamo terzi io sono felicissima super felice vediamo la Svizzera sta proprio spaccando raga così a caso cavolo la Svezia va al quinto posto oh mio dio le decimute nazioni d'altri punti a chi vogliono loro ah ok così a caso ah da giù si stanno entrando la Svizzera ok ok quando hanno vinto i maneskini quindi potrebbe pure ribaltare ammazza che figona questa dell'Armenia oh una sirena la Francia mamma mia che carino troppo caruccio lui lo amo ok ok la Francia terza oddio no ci ha superato la Francia quando però uno non appare a sinistra con punti da un lato è meglio perché può prendere 12 eh io sta cosa non l'ho capita siamo 4 no siamo 120 quando però non appare a sinistra poi passo agli appunti raga vi ricordo che la mia top 10 è 10 Armenia 9 Spagna 8 Portogallo 7 Francia 6 Ucraina 5 Grecia 4 Israele 3 Italia 2 Svizzera 1 Serbia vediamo poi quanto ci prendo eh sto curiosa no ragazzi attenzione la Francia forse ce la fa a vincere l'Eurovision porca miseria che sfida eh per il vincitore non manca molto grazie mille Carmela per aver condiviso la live stiamo tutti qua 220 stiamo regà capisco che avete usato tutti i vostri soldini per votare ma ogni tanto una rosellina a questa povera esaurita qui Georgia dai mamma mia ragazzi porca miseria la Svizzera sta facendo un casino però non è ancora detto eh non è ancora detto grazie mille per le roselline un bacione grazie grazie davvero 213 live ragazzi forza forza tap 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 mi sposto che state un po' troppo ok giustamente ringrazia mo la danno tipo all'Estonia che sta a zero così non possono superare ok sono curiosa gris così a caso ok 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 interessante non può arrivare prima no non è detto è ovvio che non posso votare giustamente però Grecia così siamo terzi l'Italia troppo sottoludata ok no siamo terzi siamo terzi oh a me non mi dispiace se rimane così la classifica dai c'è la Serbia completamente ok 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 mamma mia che ansia ragazzi oddio ok l'Ucraina sale sale al settimo posto che ansia che ansia davvero Luciano grazie grazie mille grazie davvero ragazzi mi sostenete tantissimo vi voglio tanto bene grazie se poi c'è entrato qualche guru che vuole fare una sorpresa siamo contenti grazie Stitch Angel per avermi seguita che facoltà fai io studio cinema alla Dams cinema e arti della musica e dello spettacolo no no non mi potete mettere la pubblicità maledetti vabbè vi leggo vi leggo vediamo bene anche noi amore mi piace la canzone mi piace lui a me piace Nemo pure a me a parte quella play beccata che ha fatto ma non è le zone oddio che ansia che sconvolto eccolo bravo dai comunque è adorabile non si fa no no non farla finita no dai no non può vincere l'Irlanda dai ragazzi si vede su youtube ragazzi in live si è molto complicato capire i punti ragazzi io non lo capisco mi spiegate bene questo sistema dei punti non riesco a capire comunque lui è adorabile ragazzi sono troppo carini vediamo vanno pure d'Angelina vuoi sapere neanche io lo so cosa sono quei numeri blu aiutatemi spiegatemelo va pure d'Angelina no perché è andata d'Angelina scusami ok ok ragazzi Svizzera 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 184 punti Francia 113 Italia 102 ok ok Irlanda 96 oh mio dio madonna fatemi beve che non sto bevendo nemmeno per l'ansia va va morando di Svizzera wow guarda la Grecia con dietro la Tene ma che spettacolo sarà un green screen eh però no vabbè dai tutti si convenevoli Grecia ha 8 punti all'Italia perché tu l'avete visto ok allora ragazzi quindi praticamente quelli blu sono quelli che ha dato il paese in questo caso la Grecia a tutti quanti giusto e poi ne da 12 a quell'altro in più giusto ok 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 quindi comunque ci ha dato 8 adesso ho capito per chi non ha capito ragazzi quelli blu sono i voti che dà il paese in questo caso l'Estonia ha dato 7 Francia 3 Italia le mortacce 2 10 Ucraina 8 grazie più dai 12 punti a chi sceglie lui ok 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 chiaro ok ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando ma davvero adoro grazie Vini per avermi seguita io spero che vi sto leggendo tutti ragazzi perdonatemi se non vi leggo tutti siamo 252 a vedere questo Eurovision oh mio mio ok allora al momento sta vincendo la Svizzera 208 punti Francia 137 tesissimi giustamente ragazzi so più ansegno di lui dai Nemo dai che ci piaci Nemo dai vediamo che ci ha dato vediamo un po' 10 punti ci hanno dato dall'Austria raga boni boni 10 punti oh potremmo rimanere terzi forse io sarei contentissima di arrivare terza secondo me più che meritato vediamo un po' la Svizzera dai esatto ai vicini mamma mia ragazzi cioè non credo ma ditemi un po' voi è recuperabile dal pubblico mi sembra un po' tanto avanti la Svizzera che dite voi perché non può prendere il massimo perché ha preso 5 punti incroci ah esatto ok 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 ho capito come funziona quindi magari diranno la Francia ah no no che dicono loro sicuramente non l'Italia a dare 2 punti a dare 2 punti a dare 2 punti ma chi è questo ma chi è questo non lo conosco ah ho proprio italiano parla un botto mamma mia mamma mia che cringe i pagliacci proprio grazie Francia 1 gli abbiamo dato regalo dai la Svizzera sì sì preparate perché la Francia gli abbiamo dato uno che è proprio eterno i rivali un bestemmio ok Finlandia ormai se non danno un botto lo dito ero strano Mike Smurry no ho pensato la stessa cosa ti prego ti prego stacca ho pensato la stessa cosa adoro ok ok oh siamo scesi quarti ragazzi la Croazia è salita ok oh ragazzi sorpostione della Croazia mortacci vabbè buono noi la Francia abbiamo votato a uno diciamo che la rivalità è entrambi porca miseria guardi raga no dai almeno in top 3 volevo arrivare oh comunque in Irlanda non gli devo una lira invece porca miseria comunque la Serbia lì lontana per me è una vergogna ve lo dico i primi posti sono prima Svizzera seconda Francia terza Croazia quarta Italia quinta Irlanda sesta Ucraina settima Portogallo ottava Svezia non Armenia decima Germania andiamo matrona raga vedi che non siamo gli unici che abbiamo apprezzato la Svizzera e la canzone della Svizzera è veramente una canzone bella all'avanguardia secondo me è una bellissima canzone si merita di vincere a mio parere ovvio che io vorrei arrivare almeno nella top 3 dai dai raga ma ci sta la Svizzera è una bella canzone dopo per il pubblico partono dall'ultimo e danno punteggio da ogni paese ok 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 meno male che abbiamo Francesco porca miseria siamo tornati qua terzi raga siamo tornati terzi dai siamo tornati terzi no ha dato i punti alla Francia vabbè comunque non li supera non li supera la Svizzera stai lì ah lo vedete su Rai 1 o su in live su youtube ragazzi eh nessuno ha 12 punti all'Italia infatti no non hanno ancora detto i numeri del televoto ragazzi lo dicono dopo il pubblico queste qua sono ogni paese su youtube lo vedete tranquillamente in live aiuto ma veramente attenzione che potrebbe fare il sorpassone la Francia no sta troppo giù rispetto alla Svizzera Mattia grazie mille per avermi seguita ed è vero auguri a tutte le mamme assolutamente se qualche mamma mi guarda auguri 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 siete bellissime stupende devo fare gli auguri anche alla mia ovviamente grazie Simone Mati eh Fra Berte per avermi seguita grazie a mille a tutti grazie Mati grazie davvero ragazzi fate tanti tap tap facciamo arrivare questa finale dell'Eurovision su 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 ok ok ancora la Svizzera gli stappi a una sincope a Nemo porca miseria dai io io posso in lui mi sentirei molto soddisfatta eh grazie Lili grazie Nadia per avermi seguito madonna quanti ragazzi seguitemi anche su Instagram Ludovica Ledger se divertimo ok ragazzi siamo di nuovo quarti uffa voglio stare in top 3 ok beh Ireland chi vota Svizzera ragazzi dite che il pubblico può ribartare la situazione cioè ce n'ha tanti eh la Svizzera eh raga però la Svizzera non è male io preferisco la Svizzera alla Francia eh anche qua anche anche loro votano per la Svizzera ragazzi palese grazie mamma virtuale per avermi seguita forza miseria c'è veramente amatissima la Svizzera eh beh è la mia preferita insieme alla Serbia quindi ci sta eh lo so ragazzi che si vede prima che vedevo di bu Cipro Cipro tre punti ci ho dato l'animaccia sua però non non gli dà la Svizzera gli darà la Croazia la Croazia potrebbe fare il ribaltone infatti avevo detto bene Croazia ok eh ragazzi siamo parecchio siamo quarti non so se possiamo arrivare almeno terzi vorrei arrivare terza la Svizzera ha sbancato sì ok mamma mia ragazzi top poi è troppo carino lui lo so che sulla Rai si vede prima che devo fare io la vedo su YouTube rimaniamo guardi sono 15 ma come top ma tipi la Svizzera no però mi piace la Svizzera premiscono la Svizzera la Francia tanto a noi so che non votano ragazzi che devo fa' ma questa è cosa constratta Croazia ok ragazzi io non è che tifo per la Svizzera però per me è impossibile che vinciamo raga potrebbe pure essere ma non ci voda nessuno a meno che il pubblico da casa pam la vedo dura io spero nella top nella top 3 vorrei arrivare almeno terzi ok sto quarto me sta qua me sta sto quarto mamma mia voglio arrivare terza da Svizzera dai che battuta che abbiamo trovato Nemo no alla ricerca di Nemo che simpatia io sono curiosa del pubblico ragazzi molto curiosa del pubblico ok ok oh dai può cambiare tutto ok ragazzi Svizzera Francia Croazia Italia Ucraina Irlanda Portogallo Svezia Armenia Germania ok noi siamo quarti ragazzi quarti al momento prima Svizzera 365 punti la Svizzera ma è molto l'ora per dirlo sì a sto punto oh Dio ragazzi a sto punto mamma mia 300 in live tutti a vedere l'Eurovision adoro no non è finita non è finita Justice for Juist Marika grazie mille per avermi seguita perché Svizzera ma che Croazanemo che ha vinto ancora non si sa ciao dall'Inghilterra ciao Carmen grazie Filippo per avermi seguito seguita vediamo ora che succede ora divertente ok 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 mamma mia ragazzi che ansia mamma mia che ansia certo che porto fortuna io voglio arrivare almeno terzi io spero davvero che ribaltiamo tutto arriviamo primi però cioè è molto improbabile raga non stanno dicendo ancora vincitori deve votare il pubblico adesso tirano i voti del pubblico in base a quello si saprà il vincitore quindi manca poco eh raga io spero di farcela ma la vedo dura i Mineskine erano settimi infatti potremmo pure farcela ragazzi siamo quarti i Mineskine erano settimi non è detto non è detto ok vediamo Estonia ok dai forza si se non vince l'Italia se non deve vincere l'Italia io voto per la Svistra o per la Serbia ma figura vediamo ok quindi sale ok l'Estonia non vince ragazzi vabbè l'ho immaginato andiamo a Finlandia ok mamma mia ragazzi che ansia aiuto mamma mia 4 punti che merda scusate ok poco poca roba eh aiutatemi pochi eh qua sono bassini ragazzi eh signore mio aiutatemi al momento siamo quarti ragazzi ma deve votare ancora il pubblico quindi quindi momento di panico madonna mia bassino eh un po' poveretti mi fanno un po' pena che carina che carina brava spagna 11 oh raga la spagna è andata malissimo la serbia vi prego fatemela serire 32 punti ma vabbè ma che vergogna io completamente in disaccordo ragazzi la serbia per me è troppo bassa c'è in compresa proprio io lo volevo almeno in top 5 ma ammazza la Lituania oh sì siamo quarti al momento ok cifro 44 punti guarda che mi sta bene in mar di schiena che me la basta ok ok però adesso nessun cambiamento troppo grande la Grecia vai oh buoni la Grecia sale eh uh la Grecia ragazzi ottava la Grecia ci sta la Grecia ce l'avevo sì no zero punti no raga che vergogna beh la canzone non è molto bella sta votando il pubblico sta votando il pubblico Israele dai dai e vabbè e vabbè quelli che fanno buro 323 punti 323 punti cosa macca miseria prima 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 di Israele ragazzi io scioccatissima cosa poi dopo 300 non mi vieni ragazzi Israele è prima ma vi rendete conto scioccata no non è paese che vince ragazzi non è paese perché la Svizzera deve ricevere i punti la Svizzera basta che riceve 11 punti e vince praticamente al momento eh non è detto madonna l'Armenia l'Armenia una quinta ragazzi io sconvolta ok Svezia rimane più o meno giù insomma porca miseria dai mo'Italia 400 punti sbam mamma mia che ansia oh attenzione in Irlanda terrorizzata io no non può vincere l'Irlanda ragazzi no rimane comunque giù eh Italia 359 punti spam oh Irlanda terza raga che cos'è l'Ucraina manca poco raga cosa l'Ucraina sale ragazzi aiuto aiuto io mi sento male ma io la posso far mi sento male sbengo l'Ucraina prima what cioè raga ha cambiato tutto tocca quasi all'Italia io mi sento male sbengo signore mio pietà Italia zitti zitti ne voglio 500 ne voglio quanto ma che schifo ragazzi quinti che tragedia no raga terribile pochissimi croazia no raga io non lo so mi sento veramente non so che dire sono rimasta malissima non so che dire malissima pure Francia se ne ha beccati un botto ragazzi no è irrecuperabile ragazzi non abbiamo vinto i tre vincitori potenziali potrebbero essere croazia svizzera o francia perché votate ragazzi io a questo punto voto svizzera è quella che preferisco croazia francia svizzera ok ognuno pensa qualcosa di diverso vediamo un po' ma ragazzi siamo 600 persone mamma mia ragazza aiuto poi mi scrivo la classifica voglio vedere se ci ho preso chi è? chi è? Francia fermi non arriva primo terza la Francia non ha vinto la Francia ragazzi porca miseria ragazzi secondo me vince la Svizzera porca miseria so exciting this is so anxiety altro che grazie Cosimo no Israele non vince ragazzi o vince la Croazia o vince la Svizzera ragazzi vediamo ok vediamo ok ha bisogno di 138 punti credo quindi se fa più di questi punti ha vinto ragazzi eh pronti ragazzi io dico Svizzera io dico Svizzera eh raga eh raga ha vinto la Svizzera è andata è andata è andata oh mio Dio niente raga è andata ho perso 50 euro no eh adesso mi dico la classifica ragazzi ora mi dico la classifica io ho scioccata eh peccato l'Italia è andata male l'Italia è andata male oh mio Dio porca miseria cioè in realtà è la mia preferita la Svizzera eh però per carità insieme alla Serbia però buh sconvolta esatto prossimo anno in Svizzera l'Eurovision ci arriviamo velocemente niente un saluto a Youtube ciao Youtube ho vinto la Svizzera sono contenta è andata così porca miseria oh oh mio Dio ciao ragazzi sì perché ho anche ho anche Youtube ragazzi per quello eh ragazzi è andata così aspettate fermi Svizzera Croazia Ucraina Francia così vediamo un po' Israele Irlanda Italia settima vabbè ragazzi siamo arrivati settimi settimi vabbè speravamo meglio ma è andata dai bravo Nemo brava la Svizzera grazie a tutti grazie a tutti